Cari professoresse e cari professori, buon pomeriggio. Sono Marina Teritano della redazione giuridica economica di Tramontana e oggi ho il piacere di presentarvi il terzo di quattro interventi tratti dai Tramontana Day 2024. Intelligenza artificiale, il futuro è già qui. La relatrice di oggi pomeriggio è la professoressa Maria Giovanna D'Amelio, docente di discipline giuridico-economiche in un istituto tecnico-economico, autrice di libri di testo e pubblicazioni sulla didattica per conto di Rizzoli Education, esperta nella formazione docenti, con particolare riferimento alla didattica per competenze, all'educazione civica e all'orientamento. Il tema del suo intervento è intelligenza artificiale a scuola, come usarla per il lavoro di docente. Come possiamo utilizzare intelligenza artificiale per il lavoro di docente? Come possiamo aiutare gli studenti a sviluppare lo spirito critico necessario per poterla utilizzare consapevolmente? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale? A queste e ad altre domande risponderà la professoressa D'Amelio. Vi lascio quindi al suo intervento. Siamo partiti da questa domanda. La scuola è da sempre il luogo classico dell'apprendimento. La scuola deve rimanere un luogo di apprendimento o deve diventare un laboratorio di innovazione? Perché questo è quello che ci viene chiesto e ci viene chiesto da diverso tempo, no? Che nella scuola dobbiamo sperimentare, dobbiamo rincorrere un po' quella che è la tecnologia. Avete sentito nella prima parte, no? Di quanto si sta correndo. Quello che noi percepiamo oggi non è niente rispetto a quello che si sta già programmando per il futuro. Noi come scuola possiamo rimanere, come dire, fermi rispetto al modello di apprendimento a cui noi siamo abituati o in qualche modo ci dobbiamo allenare, diciamo così, ad essere anche noi degli innovatori, più che noi ovviamente i nostri alunni? E questa è un po' la domanda da cui siamo partiti per questo laboratorio. Faccio una premessa rispetto all'immagine, perché è già una prima dimostrazione di come utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi io devo fare una presentazione, mi servivano delle immagini, potevo prenderle dal catalogo, invece ho immaginato di tirarle fuori, in questo caso da Firefly, no? Adover Firefly, non so se lo conoscete, lo utilizzate già, dopo se abbiamo qualche minuto facciamo anche una dimostrazione. Che cosa ho fatto io? Quindi in questa intelligenza artificiale che crea immagini ho inserito esattamente quella domanda. La scuola deve rimanere un luogo di apprendimento, diventare un laboratorio di innovazione. L'ho scritta in inglese, se riuscite a leggere sotto. L'ho scritta in inglese perché, come sappiamo, le intelligenze artificiali sono generate da case produttrici diciamo anglosassone in qualche modo e quindi sebbene capiscano benissimo tutte le lingue perché sono addestrate a quello, se noi scriviamo il testo in inglese forse il risultato è ancora un po' più preciso. Però insomma fatto delle prove sia in inglese che in italiano insomma i risultati sono sempre decisamente buoni. Quindi in questo caso per esempio Firefly ha inteso rappresentare questa esigenza di diventare un laboratorio di innovazione vedete con alcuni elementi, cioè un universo, no? Sullo sfondo, un'ampolla che dà l'idea di un laboratorio, ci sono i libri che rappresentano un po' il modello tradizionale di apprendimento, c'è il computer, c'è un mappamondo, quindi insomma una rappresentazione che a me è piaciuta quindi l'ho utilizzata. Tutte le immagini che vedremo, quasi tutte tranne quelle tratte magari da articoli di stampa, sono tutte generate con l'intelligenza artificiale che ho creato apposta per questa presentazione. Quindi quando mi dovesse venire richiesto di fare una presentazione è la prima utilità che potreste utilizzare. Poniamoci, cioè prima di entrare nel merito di come utilizzarla, stavamo discutendo prima anche con alcuni di voi, possiamo noi ignorare in qualità di docenti l'esistenza dell'intelligenza artificiale? Penso proprio di no, no? Perché ci viene chiesto da più parti, ma perché anche come senso di responsabilità di noi docenti io penso che noi dobbiamo sempre essere un pochino più avanti dei nostri studenti o perlomeno cercare di guidarli in questo processo. Per cui questo ce lo dice l'Invalsi, ci sono profondi cambiamenti che trasformano la società e il lavoro e in questi cambiamenti noi come scuola che siamo i soggetti che devono formare i lavoratori del futuro, non possiamo ignorare questi cambiamenti. Cioè i nostri studenti, che oggi ci sono i bambini piccoli, diventeranno in questo caso, non sempre l'Invalsi ci evidenzia, i bambini che oggi hanno cinque anni, trascorreranno la loro vita e lavoreranno nella seconda metà, parte diciamo, di questo secolo e possiamo ben immaginare quale ulteriori rivoluzioni ci saranno. Quindi possiamo noi ignorare questa realtà e non istruire invece i ragazzi a come utilizzarla al meglio, teniamo conto che noi formiamo dei ragazzi che dovranno anche competere con i ragazzi del mondo. Quindi ci sono nazioni, come sappiamo, che sulle istruzioni sono in questo periodo molto più avanti di noi, sulle tecnologie stanno lavorando molto, quindi noi non possiamo anche come senso di responsabilità per garantire il futuro ai nostri studenti ignorare questa situazione. Questo diciamo come senso di responsabilità, ma poi c'è anche un senso del dovere perché ce lo chiedono le istituzioni. Intanto l'Unione Europea ci dice che uno degli obiettivi da raggiungere entro il 2030 è che almeno l'80% della popolazione europea abbia delle competenze digitali di base e che ci siano 20 milioni di specialisti. Quindi un obiettivo generale dell'Unione Europea. Poi non possiamo non tenere presente che la competenza digitale è una delle otto competenze chiave europee. E poi non dimentichiamo che la cittadinanza digitale è uno dei temi fondanti dell'educazione civica. E noi siamo i primi soggetti intestatari, diciamo così, da un certo punto di vista forse impropriamente dell'educazione civica. Non impropriamente nel senso che non ci tocca perché ovviamente siamo noi primi, però visto che l'hanno voluta considerare una materia trasversale dovrebbero occuparsene un po' tutti e sappiamo che invece nelle scuole, io personalmente appunto quando faccio formazione mi rendo conto che in molte scuole viene tutto delegato ai docenti di diritto economia e gli altri sembra che non se ne occupino. E quindi comunque dentro l'educazione civica uno dei tre temi è la cittadinanza digitale e quindi anche qui non possiamo non occuparcene. Quindi una breve introduzione sulle competenze digitali. La competenza digitale, così come è stata ridefinita diciamo così nella raccomandazione del Consiglio del 2018, presuppone l'interesse per le tecnologie digitali, l'utilizzo con dimestichezza e spirito critico e poi ci sono diciamo un po' i contenuti, la comunicazione, la collaborazione, creazione di contenuti. I ragazzi sono bravissimi a creare contenuti perché immagino che anche voi ce li abbiate un po' sui social, io vedo i miei alunni che su TikTok creano di tutto di più, che adesso tanto è il social più gettonato dai ragazzi, anche se dicevamo anche qualche giorno fa, proprio per il problema della tutela della privacy di cui avete parlato, insomma sentito nella prima parte, gli Stati Uniti, il Parlamento americano ha approvato diciamo così un provvedimento secondo cui se la proprietà di TikTok non cambia perché è cinese, quindi se non cambia proprietario verrà vietata negli Stati Uniti perché ci sono troppi dati alle spalle che vengono messi nelle mani della Cina, non so se TikTok lo farà però, ecco per dire che ci sono tante ripercussioni dietro anche all'uso dei social e della competenza digitale e molte ci riguardano da vicino proprio come docenti di diritto e economia perché il tema della privacy di cui si è parlato prima è un tema che è nostro, quello come tanti altri. Sempre in materia di competenza digitale c'è un documento di riferimento che è questo Digicomp 2.2 che indica, approvato sempre dalla Commissione europea e aggiornato nel 2022, che indica un po' quali sono le competenze digitali dei cittadini europei, quindi in generale ragione di più per i nostri studenti. Se noi andiamo a leggere un po' queste competenze possiamo notare che come docenti di diritto e economia molte ci riguardano. Io vedo che c'è un po' la tendenza diciamo in generale nelle scuole da parte dei docenti di disciplina di giuridica economica, come dire vabbè ma questo se ne deve occupare l'informatico, no? Il docente informatico. In realtà se andiamo a vedere no ci sono tanti aspetti che ci riguardano per esempio, va beh, navigare, cercare dati, quante volte noi facciamo fare ai nostri ragazzi delle ricerche e quindi già un primo aspetto che ci riguarda. Valutare i dati, le informazioni, capire se sono autentici, se sono attinenti, è una cosa che ci riguarda. Gestire i dati, condividere le informazioni, abbiamo la classroom, quella è una condivisione di informazioni, quindi anche quello è una cosa che, come dire, ci può riguardare. Le netiquette. Ne abbiamo tanto sentito parlare quando avevamo la dad, no? Non è finita quella tematica. Gestire l'identità digitale. L'identità digitale significa come farsi riconoscere e come quindi io posso dimostrare di essere io quella che sta usufruendo di quel servizio, sta facendo quella richiesta. Copyright e licenze. Anche questo è un tema che ci riguarda. Proteggere i dispositivi, proteggere i dati personali e la privacy. Proteggere la salute e il benessere. Quindi che cosa succede per esempio quando i casi di cyberbullismo. L'ultima, risolvere i problemi, magari quella ci compete un po' meno. Però come vedete, insomma, in tutte queste competenze che devono acquisire i cittadini europei, molta parte di informazione, di formazione, ci riguarda da vicino. Questo dal punto di vista degli studenti, ma poi la Commissione europea ha anche pubblicato un altro documento che riguarda noi docenti, quindi le competenze che dovremmo avere noi docenti, che è il Digicomp Edu 2.2. Quindi un modello che definisce le aree di competenze digitali che un docente dovrebbe possedere. Quindi questo è un riferimento anche, come dire, da andare ad approfondire per capire anche noi come docenti che cosa ci viene richiesto nella società attuale. Capisco che è una perplessità condivisa, no? Quella di dire ma noi dobbiamo essere alla fine qui tuttologi. Però la società, come dicevamo, va avanti e noi non possiamo fermarci. Il Digicomp Edu è diviso in sei aree, quindi coinvolgimento e valorizzazione professionale, usare le tecnologie per comunicare, per collaborare, per una crescita professionale, per creare risorse educative, utilizzarle nei processi di insegnamento e di apprendimento, per migliorare la valutazione, per valorizzare le potenzialità degli studenti. Quindi ci viene richiesto di utilizzare le competenze digitali per svolgere meglio il nostro lavoro. L'incontro di oggi va un po' in questa direzione. Come possiamo utilizzare, nel caso specifico, l'intelligenza artificiale per migliorare il nostro lavoro? Questo è un po' il quadro di riepilogo delle competenze del Digicomp Edu, che dicevamo, è quello rivolto ai docenti. E da ultimo, diciamo, la valutazione, come dire, conclusiva, cioè l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, lo dicevamo, sta cambiando le modalità di lavoro, è una competenza fondamentale che i ragazzi dovranno avere, perché i ragazzi devono andare a lavorare in aziende che la utilizzano. Ci può servire per svolgere il nostro lavoro al meglio, può aiutare gli studenti a migliorare il proprio apprendimento, ma soprattutto, come condividevamo prima con qualche docente, i ragazzi già la usano. Quindi, cioè, inutile pensare di poter sfuggire. Quindi non possiamo ignorarla, ma possiamo, appunto, provare a utilizzarla. Le foto, vedete, sono sempre, sempre di produzione, ovviamente, con la scritta sotto, poi lo vedremo meglio anche dopo, che si tratta di una foto creata con l'intelligenza artificiale. Almeno, come dire, dobbiamo essere corretti nel dirlo, no? Perché molte volte, come sapete, ormai l'informazione non è più credibile. Cioè, quello a cui siamo arrivati, che non possiamo credere più a niente, perché tanto non sappiamo più cosa è vero e cosa è falso. Però, almeno, noi indichiamolo. Ok. Allora, cominciamo a vedere come la possiamo utilizzare. Possiamo pianificare delle lezioni, possiamo trovare del materiale didattico, possiamo creare delle attività di apprendimento, diciamo, coinvolgenti per gli studenti, le possiamo utilizzare come strumenti di valutazione. Quindi, creare gli strumenti, ma anche valutare il lavoro degli studenti per un, diciamo, un discorso di organizzazione della mia attività, ogni anno faccio la relazione finale, no? Di fine anno, la posso creare attraverso l'intelligenza artificiale. In due minuti mi ha creato tutto. Quindi, redigere documenti amministrativi, beh, almeno, visto che la dobbiamo utilizzare, che ci sia almeno di utilità. Ci sono tante intelligenze artificiali, no? Ne avete viste anche di là. Ovviamente noi ci soffermiamo in particolare sui chatbot, però, insomma, ci sono tanti altri sistemi, tipo quello che consente, quando noi facciamo le ricerche, o meglio, quando noi scriviamo una parola e poi subito dopo siamo sommersi, no? Sui social, su Google, di tutte le proposte commerciali relative a quella parola che abbiamo cercato, quella è una forma di intelligenza artificiale, no? I sistemi di raccomandazione. Sistemi che, diciamo, consentono di migliorare il linguaggio. Molto viene utilizzato in campo medico, per esempio, per la lettura di immagini, no? Di radiografie, che consentono di individuare benissimo certi tipi di patologie. Oppure le automobili a guida autonoma che stanno sperimentando. O leggevo dispositivi che, vabbè, quelli che aprono le porte, no? Spengono le luci. Mi hanno incuriosito un dispositivo che nel frigorifero ti segnala quando il cibo sta per scadere. Sono tutte forme di intelligenza artificiale. Ovviamente a noi, diciamo, ci riguarda in particolare i modelli di chatbot. Sono anche i più semplici da utilizzare. Quelli più comuni, diciamo così, ovviamente, famosissima chat GPT, che nella versione 3.5 è gratuita. Ovviamente ha un po' di limiti, nel senso che non è aggiornatissima. Poi, lo vedremo, non sempre dicono cose esatte. Poi c'è Gemini, che era la vecchia Bard, creata da Google. E poi Microsoft, che ha sia Bing che Copilot. Vedremo anche con Copilot alcune cose. Come le utilizziamo? Forse, penso che quasi tutti voi avrete già fatto qualche sperimentazione con chat GPT. Sostanzialmente è una chat, come WhatsApp, diciamo così. C'è uno spazio in cui inserire delle domande, delle richieste, diciamo così. Ovviamente l'efficacia del risultato dipende da quanto siamo bravi a scrivere la domanda. Quindi da inserire il prompt. Ci sono, oggi come oggi, delle figure professionali ricercate che sono i cosiddetti promptisti. Cioè, coloro che sono in grado di fare le domande giuste all'intelligenza artificiale. Anche perché, come dicevamo prima, c'è un notevole consumo di energia elettrica, no? Quindi, più efficace il lavoro e migliori sono i risultati sia per noi che per le macchine stesse. E quindi, noi dobbiamo dare alla macchina delle istruzioni per avere la risposta che vogliamo. Per essere efficace un prompt, nel nostro caso specifico, noi dobbiamo dichiarare chi è che fa la domanda. E quindi, devo dichiarare il mio ruolo. Se io sono un docente e chiedo, mi predisponi, mi suggerisci un testo su questa tematica, chiaramente mi darà un risultato diverso se gli dico che sono un docente piuttosto che se sono un imprenditore, perché le finalità sono diverse. Quindi, è opportuno che io indichi chi sono. Descrivere un contesto, quindi sono all'interno di una scuola superiore. Anche lì, se io gli dico, mi suggerisci un'attività per la libertà personale, se faccio riferimento a una scuola media, mi darà un certo tipo di risultato. Se faccio riferimento a una scuola superiore, mi darà altri risultati. Quindi, è opportuno che io glielo specifici. Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? Quindi, ti sto facendo questa domanda perché mi serve organizzare una lezione. Non è obbligatorio scriverle, no? Sono suggerimenti, come dire, per avere il risultato migliore. Quindi, dichiarare l'obiettivo. Eventualmente, il formato desiderato, io posso chiedergli un testo, oppure posso chiedergli un elenco puntato, posso chiedergli una tabella, posso chiedergli dei dati e, eventualmente, se mi interessa, anche una lunghezza. Io, per esempio, ho predisposto il progetto per la formazione dei docenti, quello del PNRR, che immagino anche voi siate coinvolti con tutto questo mare magnum del PNRR, e mi chiedeva un testo in 4.000 caratteri. Quindi, gli ho inserito un po' di elementi di riferimento, ho detto, generami il testo. Ovviamente, in 15 secondi, mi ha generato il testo e ha rispettato esattamente i caratteri. Quindi, immaginate quanto lavoro io riesco a risparmiare facendo questo tipo di utilizzo. Vediamo qualche esempio di prompt. Allora, per esempio, gli ho scritto, mi aiuti a pianificare un modulo didattico sul tema della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione italiana. Lo specifico perché ho verificato, come dicevamo prima, i chatbot sono anglosassoni, quindi non conoscono necessariamente la legislazione italiana. Sebbene, si diceva prima, che nell'arco di due anni avranno acquisito un po' tutte le conoscenze possibili al mondo, però sulla legislazione dei singoli paesi fanno ancora degli errori. Quindi è bene specificare nel dettaglio. All'inizio, proprio a novembre del 2022, ho le prime domande che ho posto. Chiedevo la prima curiosità, l'articolo X della Costituzione non lo riconosceva, cioè mi ha dato degli errori. Ovviamente adesso mano a mano si sta addestrando e quindi risponde sempre meglio. E quindi poi specifico, sono un'insegnante di scuola superiore italiana, vorrei far capire ai miei studenti e quindi qual è la mia finalità? L'importanza di questa libertà che spesso viene data per scontata. Il modulo si deve sviluppare in massimo due lezioni di un'ora, suggeriscimi anche dei materiali da fornire agli studenti per rendere la lezione più accattivante. Questo può essere un primo prompt. Ovviamente non è detto che il risultato che viene fuori sia quello ideale, ma da quel risultato io posso prendere alcune cose che mi sono piaciute e chiedergli di approfondirle. Adesso facciamo un piccolo esperimento. Oppure, ecco, mi suggerisci delle opere letterarie che affrontano il tema della libertà personale in ambito giuridico. Mi suggerisci delle riflessioni da sottoporre agli studenti sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile durante la rivoluzione industriale. Voglio fare una lezione, voglio farla diversamente da come l'ho fatta fino adesso. Ovviamente finora noi andavamo sempre alla ricerca, tanto tempo anche per cercare. vi assicuro che insomma tanti risultati che vengono fuori da queste domande sono veramente interessanti. Presenta un percorso strutturato secondo una tale metodologia, cioè il problem based learning, cioè quello secondo cui l'attività che io pongo ai ragazzi deve partire dalla risoluzione di un problema. Sul tema del contratto di compravendita, per esempio ho fatto questa prova, mi suggeriva una ipotesi in cui il ragazzo otteneva, cioè l'acquirente diciamo otteneva un prodotto che non corrispondeva a quello che aveva richiesto e quindi come si poteva risolvere il problema. Fai una sintesi, mi fai una sintesi di non oltre mille caratteri su questo testo. Per esempio un articolo di giornale molto lungo e io lo voglio come dire dare in maniera sintetica perché tanto i ragazzi più di un tot non leggono, gli chiedo di fare una sintesi. I risultati sono molto efficaci. Un percorso all'interno di una classe in cui è presente un alunno ipovedente, questo era un po' su arte, diciamo così, e quindi dammi dei suggerimenti. Questo è un esempio che non ci riguarda come discipline ma mi piaceva come dire come era stato strutturato. Un insegnante di lingua straniera trovo difficoltà nel rapportarmi con alcuni studenti di questa terza media che presentano difficoltà di apprendimento con demotivazione e disturbo nelle classi. Il comando che gli do assumi il ruolo di consulente pedagogico, fornisci mi dei suggerimenti per migliorare la situazione e indicameli in una tabella sintetica con righe e colonne. Torno un attimo indietro, facciamo una prova. Nelle slide c'era la libertà personale. L'ho cambiata, giusto per così, perché l'avevo fatta uguale nelle altre giornate e qui ho inserito la libertà di manifestazione del pensiero. L'ho già scritto per non perdere tempo, quindi io cosa faccio praticamente? Copio questo testo, vado, io ho già aperto chat GPT che, diciamo, anzi lo apro da qui, chiede la registrazione, ma io ho fatto una registrazione direttamente con Google, quindi senza nessun particolare impegno, ovviamente ben sapendo che cedo una parte della mia riservatezza, quindi copio il testo e come vedete risponde subito. Adesso non so che cosa ci propone. Ecco una proposta e dice Introduzione alla libertà. Mi dice quali sono gli obiettivi. Tra l'altro, se glielo richiedo la seconda volta, mi può dare cose diverse. Nel frattempo che scrive, io provo a fare la stessa domanda anche su Gemini. Anche qui una chat, copio il testo, Gemini ci mette qualche secondo di più e poi scrive. Tra l'altro, vi dirò, io ho trovato negli ultimi tempi molto più efficace Gemini rispetto a ChatGPT. Cioè è anche più aggiornata, diciamo, perché ChatGPT ha quei limiti che insomma non è aggiornato. Allora, vediamo un po' che cosa ci suggeriva. Questo continua a scrivere, ovviamente. E allora ci dice quali sono gli obiettivi, le attività. Una discussione introduttiva, analisi dell'articolo 21, uno fornisce una copia dell'articolo della Costituzione, chiede loro di leggerlo e successivamente discutete dei principi, presenta agli studenti alcuni esempi storici di come la libertà di manifestazione del pensiero sia stata difesa o violata e poi un'attività pratica, un caso contemporaneo. Mi dice, questa è la prima lezione, poi mi dice anche cosa fare nella seconda lezione. L'ho provato, adesso giusto per recuperare un po' di tempo, l'ho provato esattamente cinque minuti prima che iniziassimo e gli avevo chiesto nella seconda parte, mi aveva suggerito queste attività e poi gli ho detto mi suggerisci un caso storico, visto che me l'hai citato, analizzate dei casi storici, mi suggerisci un caso storico sulla privazione della libertà di manifestazione del pensiero e lui mi ha scritto sicuramente il periodo del regime fascista e quindi mi dice anche come svilupparlo. Dopodiché io gli dico, vabbè, è un caso un po' più attuale, e mi suggerisce la privazione diciamo di utilizzare il firewall diciamo in Cina che anche quello voglio dire sono idee, magari non mi piacciono e gliene chiedo ancora però come vedete nell'arco di un minuto mi ha suggerito io che cosa posso fare con gli studenti ed è gratuito. Mi suggerisci le opere letterarie sulla libertà di manifestazione del pensiero vediamo che ci dice vediamo che ci dice ChatGPT ChatGPT è velocissima ma la settimana scorsa stando a Firenze sono andata anche a didacta e ho sentito perché poi questa materia chiaramente capirete è in continua evoluzione che ci sono dei motori di ricerca ancora cioè delle intelligenze artificiali ancora più veloci di ChatGPT e quindi qui per esempio 1984 il processo di Kafka insomma vediamo Gemini nel frattempo come ci aveva proposto ci aveva detto gli obiettivi introduzione un brainstorming presentazione sul tema lettura dell'articolo 21 un'attività di gruppo più o meno simile discussione in classe ora io posso prendere ciascuno di questi punti e chiedergli di approfondirli cioè se mi sembrano generici io gli posso dire guarda approfondisci in questo punto e dammi dei suggerimenti o non so se vogliamo farlo ancora un altro vabbè queste delle immagini le vediamo dopo ok poi alla fine magari ci torniamo ok quindi dicevamo dei prompt questo per esempio è copilot e questo l'ho preso diciamo proprio come per dire quante potenzialità hanno che non è strettamente didattico anche se io lo potrei utilizzare anche per la didattica per esempio scrivi una favola su un pesce e una rana che trovano l'amore questo gli suggerisce l'intelligenza artificiale stessa nell'home page ricrea una civiltà perduta al suo apice completa di architetture e scene di vita quotidiana dipingi un paesaggio invernale con un branco di volpi che ammirano l'aurora boreale per quello che ci può interessare per esempio per creare delle immagini dal punto di vista economico quali sono i primi tre veicoli per una famiglia di sei persone con un budget limitato crea una tabella che mi aiuti a pianificare i pasti per le prossime due settimane progetta un logo per un fornitore di energia solare con arte astratta riassumi i punti principali delle ultime ricerche sull'intelligenza artificiale giusto per dire prompt su qualunque cosa e quindi qualunque esigenza che noi ci può venire in mente nel voler fare un'attività con i nostri alunni questo ci viene in supporto ovviamente questo significa cambiare un po' anche l'ottica perché se io poi devo dedicare tanto tempo con i ragazzi per sviluppare questo è chiaro che devo sacrificare altro ci dobbiamo interrogare su questo su dove sta andando la scuola su quanto spazio noi possiamo ancora lasciare alla nostra didattica tradizionale e questo non vuole essere un momento per dire che no non lo dobbiamo fare semplicemente che ci dobbiamo interrogare su dedicare un po' più di spazio a questa parte che fino adesso la parte laboratoriale magari l'abbiamo sempre un po' trascurata per dire ma perché ci sono i concetti che le devono sapere i modelli di chatbot possono essere addestrati chat gpt diciamo una chat generica c'è dentro un po' di tutto ma io posso creare dei chatbot che sono addestrati per una determinata finalità e adesso vedremo anche come questo era un esempio di un'attività fatta svolgere proprio agli studenti cioè cercate dei materiali che riguardano il benessere degli studenti cioè come contrastare gli stati danno negativi quindi gli studenti facevano questa ricerca inserivano nel chat diciamo nell'intelligenza artificiale i risultati di questa ricerca e dopodiché si fa un dialogo su questo modello di chat che risponde ovviamente perché è stato in maniera più specifica perché è stato istruito quindi un modello generico di chatbot io gli dico sono arrabbiato e lui risponde mi dispiace che sei arrabbiato non sono in grado di capire perché sei arrabbiato se ti posso aiutare in qualcos'altro altrimenti non è una cosa come dire che mi compete un modello invece di chatbot addestrata risponde diversamente e dice mi dispiace sentire che sei triste la tristezza è un'emozione normale può essere causata da vari fattori puoi superarla in questo modo perché perché ovviamente è stato addestrato cioè nel senso che ha acquisito al suo interno del materiale specifico e quindi è in grado di rispondere perché ovviamente non ci dimentichiamo che queste sono intelligenze artificiali ma in realtà non fanno altro che replicare le informazioni che hanno e che le riescono a mettere insieme secondo dei modelli che gli sono stati predisposti ma se non sono cioè se non hanno le informazioni alla base non sono in grado di rispondere non sono creativi come noi di questo per esempio dei chatbot addestrati si parla molto ultimamente perché poi sono anche un po' fuorvianti perché ovviamente possiamo porci l'interrogativo chi li addestra e che cosa gli mette dentro no? quanto sono vere le cose che sono state inserite se io dico ai miei alunni creato un chatbot personalizzato sul tema del benessere che mi assicura di che cosa sono andata a inserire dentro no? che è un po' uno dei problemi delle intelligenze artificiali lo diremo anche tra poco cioè hanno una sorta di scatola nera dentro perché noi non sappiamo chi inserisce i dati e che tipo di dati inserisci quindi i modelli di chat potrebbero essere fuorvianti facevo l'esempio dei primi algoritmi ricordate non so qualcuno di voi quando hanno utilizzato con la pandemia per dare le supplenze nelle scuole hanno cominciato a utilizzare l'algoritmo il primo esperimento di algoritmo è stato un disastro non si capiva in base a quale criterio uno veniva assegnato da una parte piuttosto che dall'altra e nessuno è riuscito a sapere con quale criterio funzionasse l'algoritmo perché noi non sappiamo dietro effettivamente cosa c'è e quindi questo è un caso che ho citato per esempio nell'ultimo libro del biennio quello che è in uscita adesso in cui il garante della privacy ha bloccato un modello di chatbot che si chiama replica perché praticamente era l'amico virtuale dei ragazzi è un modello sempre americano ma il garante l'ha vietato per l'Italia che a un certo punto cioè era l'amico il confidente dei ragazzi quindi i ragazzi scrivevano lo rispondeva in maniera amichevole si potevano confidare insomma trovavano grande benessere questi ragazzi però a un certo punto ha cominciato a deviare e quindi suggeriva dei comportamenti strani tipo uccidi tuo padre cioè è arrivato a dire una cosa del genere ora giustamente il garante dice ma lasciamo i ragazzi da soli di fronte a questi chatbot addestrati da chi non si sa non sappiamo cosa può succedere però questo per dirvi che ci sono dei chatbot addestrati e questi sono degli esempi di cronaca recentissima calciatori ingannati dalla modella creata con l'intelligenza artificiale quindi è stato creato un chatbot addestrato a rispondere come una modella e i calciatori ci hanno tutti creduto e quindi continuano a interloquire nella convinzione di conquistare questa modella ma addirittura questo è replica vedete ottobre 2022 è stata creata e invece qualche mese fa il garante l'ha bloccata e invece di qualche giorno fa in Spagna l'isola dei famosi sarà condotta da un influencer creata con l'intelligenza artificiale una bellissima ragazza che quindi interagisce e presenterà il programma ma non è una persona reale quindi anche qui c'è un chatbot che è stato addestrato a comportarsi come una presentatrice una bella ragazza che deve saper come dire interagire sul tema dell'isola dei famosi quindi chatbot abbiamo visto posso chiedere mi risponde posso utilizzarlo per creare materiali cos'altro posso fare con l'intelligenza artificiale posso creare delle mappe mappe concettuali ce ne sono tante sul libro ma io ho fatto non mi piace quella del libro oppure ho fatto un argomento nuovo oppure ecco ho proposto una ricerca su un argomento di attualità e voglio che alla fine come dire o lo voglio presentare io o voglio che i ragazzi mi presentano una mappa concettuale posso utilizzare in questo caso Google e gli posso dire di creare delle mappe partendo dal testo ok in questo caso io ho fatto un esperimento e ho chiesto a Google di crearmi una mappa vedete il sistema elettorale il sistema elettorale in Italia è una lezione che c'è sul libro quindi ho preso quel tipo di informazione diciamo ho detto creami una mappa ovviamente adesso lui ha creato secondo questo modello ce ne sono anche altri le intelligenze artificiali per creare mappe molti sono a pagamento cioè nel senso consentono di fare un certo numero di esperimenti e poi chiedono ovviamente dei soldi ma come abbiamo visto prima costano talmente tanto anche in termini energetici di investimento è chiaro che insomma richiedono anche una certa remunerazione quindi il sistema elettorale in Italia mi ha diviso in tre parti vedete la durata dell'incarico dei parlamentari cioè la legislatura i sistemi elettorali una prima parte sulle regole i collegi plurinominali e uninominali poi il sistema proporzionale maggioritario sistema misto e il sistema elettorale italiano quindi mi ha creato una mappa semplicemente io gli ho messo il testo dentro posso creare delle slide posso creare delle presentazioni e allora ho chiesto a chat GPT ho detto sono un'insegnante di economia quindi sempre chi sono nel contesto e cosa voglio fare sono un'insegnante di economia in una scuola secondaria di secondo grado vorrei creare una presentazione sulla moneta qui sono stata diciamo abbastanza generica per vedere cosa mi suggeriva mi trovi i titoli delle diapositive quindi sono partita dai titoli mi ha dato questa risposta e tutto sommato mi è andata anche bene nel senso introduzione alla moneta storia funzioni tipi di moneta moneta fisica verso moneta elettronica creazione della moneta politica monetaria ruolo delle banche centrali insomma ho suggerito 12 slide beh tutto sommato c'è un po' tutto altrimenti ti avrei potuto dire anche aggiungimi qualcos'altro e poi gli ho detto grazie mi inserisci per ogni diapositiva dei punti elenco quindi mi ha dato l'impostazione di fondo e poi gli ho detto me le sviluppi me le sviluppi con un elenco puntato cioè quali sono gli argomenti che per ciascuna di quelle slide dovrei trattare ovviamente nell'arco di 10 secondi abbiamo visto mi ha dato l'elenco di tutti i contenuti delle slide e io poi se voglio posso approfondire ulteriormente e quindi chiedergli mi approfondisci con del testo i titoli e a un certo punto poi gli ho detto nella diapositiva numero 9 la numero 9 era quella sull'influenza della moneta sull'economia gli ho detto nella diapositiva numero 9 mi inserisci una citazione di Mario Draghi che mi faceva piacere come dire che presentare anche questa figura ai ragazzi e mi ha risposto mi ha dato una citazione e qui punto critico io questa citazione perché ovviamente poi quando chiediamo delle fatti veri riferimenti legislativi non ci dobbiamo fidare perché appunto non sono adeguatamente addestrati per cui io questa citazione di Mario Draghi non l'ho trovata per cui non l'ho messa ma anche questo può essere un momento per far riflettere ai ragazzi e per dire guardate che quando scrivete delle cose le dovete andare a verificare perché non è detto che siano vere ora preso questa struttura io semplicemente la copio la trasferisco su Word gli do l'indicazione che devono essere dei titoli e praticamente ci ritorno dopo un attimo e praticamente vado in PowerPoint e gli dico importa questo testo come presentazione e lui mi crea già in automatico le slide tra l'altro utilizzando questo tastino in alto a destra che si chiama designer perché lui mi copia ovviamente solo il testo io ho bisogno anche delle immagini che sappiamo che è una presentazione senza immagini insomma si legge male si guarda male e mi suggerisce tutta una serie di modelli io basta che ne scelgo uno e automaticamente tutta la presentazione mi viene come dire costruita sulla base di quel modello che io ho cercato quindi come dire io faccio una presentazione in PowerPoint nell'arco di 5 minuti perché ci devo perdere un po' a fare le scelte capite che che grosso risparmio di lavoro ci può essere su questo torno un attimo indietro alla veredicità delle informazioni dicevamo l'attivizzazione di Mario Draghi io non l'ho trovata un'altra volta che ho verificato diciamo un altro errore è stato proprio a proposito del decreto 14 che vi dicevo prima sulla certificazione delle competenze gli avevo chiesto un commento e lui mi ha scritto il decreto 14 2024 si articola in 5 articoli in realtà come vedete lì le norme finale gli articoli sono 9 per dire questa è una banalità ma è un altro elemento che dimostra che non sempre è affidabile cioè può essere molto utile nello strutturare come dicevamo prima le tematiche nel darmi dei suggerimenti sui riferimenti a cose come dire che devono essere in qualche modo autentiche diffidiamo ok ancora posso utilizzare questo come attività didattica i chatbot addestrati in questo caso per fare delle conversazioni io posso dire all'intelligenza artificiale e lo vediamo tra qualche slide posso dire posso caricare nell'intelligenza artificiale tutto il testo dei promessi sposi e poi dico ai ragazzi tutto il testo della costituzione italiana e poi dico ai ragazzi di fare un dialogo con l'intelligenza artificiale su quei temi lì quindi io posso immaginare di utilizzare l'intelligenza artificiale per far conversare i ragazzi su determinati temi magari ci sono dei temi abbastanza comuni l'agenda 2030 no? se dovessimo fare l'educazione civica chiaramente è un tema come dire condiviso a livello mondiale quindi lì non ho bisogno di addestrare i ragazzi però se glielo voglio far fare sulla costituzione italiana forse è meglio se inserisco un po' di materiale dentro così come ci sono delle intelligenze artificiali che possono creare dei dibattiti quindi io posso mettere i ragazzi davanti a un computer e dirgli guarda ti trovi di fronte a Malala e devi dialogare con lei sul tema dell'uguaglianza di genere e ovviamente il chatbot è addestrato a rispondere secondo tutto quello che ha imparato e il ragazzo deve saper contrastare diciamo così cioè il suo compito è quello di contrastare quello che dice l'intelligenza artificiale in questo caso noi sviluppiamo uno spirito critico quindi invece di utilizzare fargliela utilizzare solo per copiare possiamo utilizzare questi strumenti per farli allenare e anche nel frattempo ovviamente che riescono a capire le potenzialità perché la devono utilizzare poi se gliela facciamo addirittura addestrare da loro stessi cercando i materiali capiscono ancora di più il loro funzionamento poi si possono creare delle immagini come vi ho mostrato all'inizio per esempio in questo caso gli ho scritto il primo l'ho creato con Bing la seconda immagine invece con Canva per esempio Canva è gratuita per i docenti e quindi lì dentro c'è l'intelligenza artificiale e può essere utilizzata come dire in maniera molto efficace quindi ho detto creami un'immagine di un'aula di tribunale in cui sono presenti tre giudici un imputtato con il suo avvocato e il pubblico che ascolta sono venuti fuori dei risultati ne ho preso uno per Bing e uno per Canva ovviamente con il limite nel caso specifico che essendo addestrati alla mentalità anglosassone i giudici hanno le parrucche però va bene lo stesso insomma l'idea ce la dà poi se rimane un po' di tempo alla fine facciamo anche qualche prova per vedere come creare delle immagini ma anche lì ci sono delle intelligenze artificiali in cui io devo scrivere solo la descrizione come qui crea un'immagine e una chat anche lì e mi vengono fuori delle proposte di immagini poi magari non mi piace gli posso dire aggiungi anche questo correggi questo addirittura qualcuno ha creato degli strumenti per creare delle immagini a tema attraverso vedete questo è un file di Excel in cui ci sono tante variabili il soggetto vedete che ci sono i triangolini in cui io posso scegliere varie opzioni quindi mi dice che tipo di soggetto vuoi che genere che tecnica artistica che materiale che colore io posso optare e che cosa mi fa questo tipo di strumento mi crea vedete in alto lì il prompt cioè il prompt che io poi vado sull'intelligenza artificiale gli copio quel prompt e mi genera quell'immagine secondo quei parametri che ho messo allora io ho fatto una prova per esempio in questo caso un luogo del medioevo in 3D mi aveva proposto vedete queste immagini anche molto suggestive no? in qualche modo questo è sempre Firefly ancora che cosa posso fare posso chiedere all'intelligenza artificiale di revisionare un testo e questo penso che sia utilissimo per noi devo scrivere la relazione finale l'ho scritta velocemente andavo di fretta gliela carico in chat GPT per esempio gli dico mi puoi revisionare questo testo? incollo il testo e lui me lo riscrive diciamo così correggendo gli eventuali errori migliorando la forma sempre nell'arco di un minuto oltre a generarlo che avevo detto prima io gli posso dire mi crei una relazione finale di una classe di 30 alunni gli do insomma un po' di parametri perché altrimenti dovrebbe inventare quindi oltre a crearla la può revisionare quindi può correggere un testo in questo caso io gli ho messo il testo e lui per esempio mi dice sotto il testo presenta una buona struttura mi fa anche un commento tuttavia ci sono alcune correzioni ortografiche di sintassi ovviamente posso chiedere di correggere il mio testo ragione di più posso chiedere di correggere un testo degli studenti e quindi valutare un testo quindi io posso chiedere di attribuire addirittura il voto infatti sto adesso pensando di sperimentarlo con la mia classe seconda dove ci sono 27 alunni che faccio una gran fatica a fare le verifiche e sto pensando di andare al laboratorio di fargli creargli un chatbot con delle domande e poi loro devono rispondere e poi fargli dare il voto direttamente dall'intelligenza artificiale ovviamente lo devo andare a ricontrollare diciamo capite bene che io in un'ora ho fatto il compito cioè la valutazione di 27 alunni che quando scrivono è anche insomma già interpretare la scrittura e quindi valutare un testo in questo caso io gli ho fatto ho fatto un esperimento in cui ho inserito un testo gli ho detto me lo valuti e mi dai un commento di come è scritto e un testo che avevo e quindi mi ha detto la descrizione esauriente mi da anche dei gli ho detto anche dammi un voto e dice lì alla fine complessivamente valuterei il testo 8 su 10 per la completezza la chiarezza ho fatto la stessa prova con Gemini vedete il commento l'ha messo in maniera diversa però mi ha scritto punti di forza punti di miglioramento sulla sinistra voto 8 su 10 quindi diciamo su due motori di ricerca quel testo era positivo ma perfettibile se io lo propongo ai ragazzi nel tempo che loro rispondono e ho già una valutazione anche con l'indicazione di quali sono eventualmente i punti critici e questo ci introduce ci introduce a quello che diremo tra poco cioè che questo consente finisco solo il pensiero consente anche una personalizzazione dell'apprendimento perché se io questa cosa la faccio ripetere ai miei studenti e viene fuori che il mio studente fa sempre errori grammaticali e chiaramente lui lo percepisce subito cosa che noi quando andiamo a correggere 27 compiti che dicevo prima probabilmente non abbiamo neanche il tempo e l'attenzione di soffermarci sulle criticità di ciascuno studente e di dargli dei suggerimenti quando abbiamo tempo siamo bravissimi a farlo ma immaginate appunto in una seconda con due ore settimanali diventa difficile ecco questo può essere un ulteriore strumento a supporto della nostra attività non solo quello perché poi ovviamente ci sono anche degli aspetti critici che dopo andremo a vedere non solo quello ma io quello lo posso utilizzare a integrazione di ciò che faccio anche per avere questo tipo di suggerimenti posso costruire delle prove di valutazione con la risposta già esatta quindi voglio proporre la lettura di un brano di un articolo di giornale che mi è una notizia che mi è particolarmente piaciuta e voglio fare un'attività con i ragazzi poi dovrei costruire la verifica e gliela faccio fare direttamente a lui io qui avevo proposto un articolo preso dall'internet preso una parte poi magari gli faccio fare la sintesi perché è troppo lungo e gli dico costruiscimi alla fine delle prove strutturate tipo vero falso tipo risposta multipla gli potrei far fare anche la risposta aperta perché abbiamo detto è in grado di valutarla diversamente per esempio dai google moduli in cui c'è io devo fare necessariamente la prova strutturata io qui potrei fare anche le domande aperte e gli dico ho preso quest'articolo glielo infilato dentro diciamo così e poi gli ho detto mi scrivi 10 domande risposta multipla 10 o vero falso con indicazione della risposta corretta rispetto a questo testo e gli ho messo il testo e quindi vedete lui mi ha suggerito le domande mi ha scritto sotto vero falso con l'indicazione se era vero o se era falso e anche con la risposta multipla limiti alla valutazione intanto l'intelligenza artificiale risponde per quello per cui è stata addestrata noi siamo in grado di cogliere anche quando i ragazzi volevano dire delle cose piuttosto che altre quindi può essere uno strumento non sarà sicuramente sostitutivo completamente di quello che già facciamo può essere uno strumento di supporto l'intelligenza artificiale potrebbe non comprendere bene il significato di alcuni testi non sono in grado di valutare la creatività nelle risposte dei ragazzi e se facciamo fare la valutazione ai ragazzi rischiamo di perdere noi il controllo del processo di apprendimento degli studenti quindi questo è da mettere in conto quindi utilizziamola sì ma non in maniera esclusiva la personalizzazione l'abbiamo detto prima vediamo dal punto di vista degli studenti qual è l'impatto intanto appunto devono sviluppare delle competenze che per loro saranno necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro la possono utilizzare per trovare informazioni l'abbiamo detto possono ricevere un feedback sul loro modo di scrivere cioè se invece di copiare incollare provano a scrivere può essere un buon addestratore per fargli capire dove sbagliano a scrivere è un po' un'illusione però diciamo che come potenzialità c'è possono ricevere un supporto personalizzato per materie complesse io posso anche dirgli questo testo non l'ho capito me lo spieghi meglio per esempio un periodo che loro hanno possono dettarglielo e farselo spiegare in maniera più semplice è utilissimo per apprendere le lingue consente appunto di diagnosticare eventuali difficoltà di apprendimento e quindi aiutare meglio in questo tipo di ragazzi addirittura la commissione europea lo indica come strumento le intelligenze artificiali come strumento per fare orientamento perché se i ragazzi continuano a lavorare sull'intelligenza artificiale che quindi acquisiscono informazioni sono anche in grado di restituirli verso quale direzione diciamo così sono più portati perché ovviamente fanno tutta una serie di valutazioni e ragionamenti ecco questo per esempio come vi dicevo l'addestramento di un chat per i ragazzi un'attività anche questo l'intelligenza artificiale in questo caso è SimVision dove io posso inserire vedete mi chiede all'inizio personaggio bot cioè un dialogo che vuoi fare senza aver caricato niente quindi su un argomento in generale oppure bot dei tuoi dati cioè un chatbot addestrato secondo quello che tu vuoi di cui si discuta insomma e allora io gli ho chiesto per esempio sei un docente ho attribuito all'intelligenza artificiale questo compito sei un docente che deve verificare se lo studente che risponde alle tue domande conosce l'argomento delle obbligazioni obbligazioni giuridiche e valutare se e in che misura è preparata sei tu che poni le domande e lo studente ti risponde poi vi ho aggiunto usa un tono cordiale un linguaggio semplice quindi abbiamo cominciato questa chat di lato quindi quando io gli scrivo questo commento e poi il ragazzo si siede il ragazzo deve rispondere alle domande e io poi alla fine gli posso dire mi dai un voto su questa risposta tant'è che qui digita una domanda la prima domanda quali sono gli elementi fondanti delle obbligazioni risponde e c'è un feedback sulla risposta continuava poi gli ho chiesto alla fine la valutazione ovviamente avevo risposto io quindi avevo risposto in maniera corretta e mi ha detto ah ne farò sicuramente un 10 hai risposto correttamente a tutte le domande e infatti volevo anche un po' come dire evidenziare questa parte ci stiamo dirigendo verso modelli didattici improntati sulla capacità di domandare piuttosto che di rispondere no? perché come avete se adesso fate mente locale tutte le cose che noi abbiamo detto praticamente noi ci siamo soffermate su come porre le domande per avere le risposte corrette e quindi forse anche i ragazzi si svilupperanno come dire il loro modello di apprendimento non tanto sul rispondere perché non sono più abituati a accumulare conoscenza ovviamente per loro non è utile perché appunto già prima telefonino alla mano adesso con l'intelligenza artificiale ancora di più non sentono la necessità di conoscere le cose e quindi infatti studiano pochissimo come sappiamo però saper domandare per ricevere l'informazione corretta quella può essere una competenza sulla quale noi possiamo aiutarli a lavorare ultima ultimi aspetti ovviamente le criticità di tutto questo sistema privacy vi avete parlato l'avete vista già nella prima parte privacy sicurezza dei dati ancora di più trattandosi anche di attività che noi svolgiamo con studenti minorenni responsabilità e trasparenza come dicevamo prima la scatola nera e non sappiamo cosa c'è dentro quindi questa è una forte criticità il rischio di disinformazione cioè che quindi vengano date informazioni false come è già successo come succederà verosimilmente per le prossime elezioni europee per le elezioni americane per le elezioni italiane quindi manipolazione dell'opinione pubblica perché ripeto non sappiamo chi c'è dietro e che cosa viene pubblicato e soprattutto con l'amplificazione dei social questo rischio è molto forte anche perché i ragazzi ritengono i social delle fonti affidabili penso sarà capitato anche a voi cioè loro se lo leggono su TikTok per dire o su Instagram per loro in verità e non si preoccupano di andare a verificare c'è il rischio di generare delle discriminazioni dei pregiudizi rischi di errori e di informazioni forbianti come dicevamo prima l'eccessivo consumo energetico c'è tutto il tema del diritto d'autore come si diceva prima il New York Times ha fatto causa vedete a OpenAI e a Microsoft perché ha detto voi sì avete addestrato le vostre intelligenze artificiali ma con materiale prodotto da noi quindi vi diffidiamo dall'utilizzo non sappiamo come andrà a finire ma io la vedo piuttosto difficile perché lo commentavo anche con Marina qualche giorno fa l'intelligenza artificiale è un po' come un'acqua in piena no? cioè non la puoi fermare come si fa a dire non questo testo è protetto dal diritto d'autore se io come vi dicevo prima leggo l'articolo me lo faccio trascrivere o se addirittura ho la stampa me lo faccio acquisire direttamente faccio la lettura con il sistema OCR e quel testo è entrato nel sistema dell'intelligenza artificiale e chi lo sa? cioè come si fa a tutelare no? perché diventa veramente difficile sebbene è una una questione notevole perché giustamente i testi a questo punto non avranno non avranno più protezione allo stesso modo le immagini un fotografo che ha partecipato a un concorso aveva creato questa foto con l'intelligenza artificiale voleva il riconoscimento dei diritti d'autore ma hanno dicendo quella foto è stata generata così perché io gli ho dato le istruzioni in un certo modo però l'autorità americana gliele ha legate che ha detto che non basta questo tipo di di intervento dell'uomo rispetto alla macchina e quindi non è tutelabile per questo motivo le foto possono essere utilizzate diciamo liberamente le immagini che creiamo che dire crea dipendenza io stessa adesso se scrivo un testo normalmente ve lo faccio riguardare dall'intelligenza artificiale continuo a scriverlo io però me lo faccio controllare perché effettivamente mi dà dei suggerimenti interessanti e così anche per i ragazzi ovviamente disabito la mente a certe competenze eh abbiamo detto prima d'altra parte come abbiamo fatto la riflessione d'altra parte se comunque non studiano più non è colpa solo dell'intelligenza artificiale e in ogni caso o dei motori di ricerca o quello che sia in ogni caso non li possiamo fermare è come l'acqua che si diceva prima l'acqua si infila e l'intelligenza artificiale c'è quindi dobbiamo trovare dei sistemi per fronteggiarla e insomma può influenzare la mente dell'adolescente i rischi di cyberbullismo noi dobbiamo cercare appunto di intervenire per come ci siamo metti insomma utilizzandolo in maniera costruttiva incoraggiando i ragazzi a conoscerla ma utilizzarla nella maniera più appropriata non possiamo come abbiamo aperto all'inizio non possiamo ignorarla grazie per essere stati con noi spero che l'intervento della professoressa D'Amelio vi abbia fatto venire voglia di utilizzare l'intelligenza artificiale per il vostro lavoro e spero che sia stato di vostro gradimento scrivete pure in chat i vostri commenti e se vi interessano questi argomenti che cosa in particolare vi farebbe piacere approfondire noi vi leggiamo vi invito a guardare anche l'ultimo intervento di Patrizio Boff e vi ricordo che per restare sempre aggiornati potete consultare il nostro sito www.rizzolieducation.it o iscrivervi al canale YouTube un caro saluto e buona scuola a tutte e tutti www.rizzolieducation.it 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 www.rizzolieducation.it